Tu non ce l'hai una picca, vero? No. Bene. Prendi questa allora. Per me? Sì, Colima. Vedi, questa picca ti conosce fin dal giorno in cui sei nato. È la stessa lama usata per tagliare il cordone umbilicale che ti legava a tua madre. La picca è come la croce. Lei ci accompagna per l'intera nostra vita. No, Gagarin, questa non è la tua picca. Ma io… Anche se non puoi avere il dono della picca che ti ha separato da tua madre, tieni, prendila. E possa il Signore inoltre guidarti la mano e fascia. Con le mani. Dita in dentro. Proteggi le tue dita e proteggi la tua gola. Corto e veloce. Così. In questo modo la ferita sarà più larga e il tuo avversario morirà più in fretta. Palmo in alto. Gira la lama e… Squaccia. Guarda, Gagarin. Lui è già bravo. E ha imparato senza l'aiuto di nessuno. Cas�ta. E voglia. Guarda, Sir. Arreiooch. ceviche, Cosa non c'è. Cosa":